E che si mangia oggi? E ve lo dico io! Pasta, piselli, asparagi, zucchine e c'è pure la robiola. Cremosa, gustosa e saporita, il primo piatto che parla di primavera. Aggiungi nella padella un filo d'olio. Fai appassire la cipolla e aggiungi i gambi degli asparagi tagliati a rondelle. Aggiusta di sale e pepe e lascia insaporire per qualche minuto. Aggiungi un mestolo d'acqua e lascia cuocere gli asparagi. A questo punto aggiungi le zucchine tagliate a rondelle. Mescola, aggiungi acqua e fai appassire anche le zucchine. Aggiungi anche i piselli congelati oppure sgranati freschi. Aggiusta di sale e pepe e aggiungi ancora un po' d'acqua per cuocere i piselli. A questo punto aggiungi le punte degli asparagi e lasciale cuocere. Rileva parte del condimento e asciuglalo con un frullatore a immersione fino ad ottenere una crema liscia e vellutata. Scola la pasta e aggiungila al condimento. La pasta sarà al dente. Aggiungi anche la crema di asparagi, zucchine e piselli. Salta. La pasta non tu. Aggiungi la robiola. Mescola il tutto e manteca con cura. Ed eccola qui. Cremosa al punto giusto, gustosa e saporita. Pronta per essere servita. servite la pasta. Aggiungete una bella macinata di pepe fresco e buon appetito. Grazie per aver seguito anche questa videoricetta. Alla prossima, ciao!